Fui a fare manovre, un po' in fibrillazione, per l'8 ottobre esce di parte seconda, il più nuovo, mamma mia, comperatelo subito appena uscì, anzi no, non comperatelo subito, aspettate, perché uno deve anche pensarci solo di non fare degli acquisti affrettati, capito? Se ci pensi un po' super settivati, fai i preascolti, dopodiché, questo l'ho visto in televisione, prendiamolo, dopodiché non ti lasci tirare in mezzo dalle logiche di mercato, anche se vedi una cosa e ti dicono compra, la tu la compri, io per esempio non, questi che ho visto, sono in classifica, quindi dico, l'8 ottobre, le pidi, d'argento amico, qui a fare la spesa, però ricordatevi una cosa, se il pesce lo volete fresco dovete venire da me.